Ciao ragazze, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Qui è sabato e sono le 11 passate. Stamattina svegliati con calma, ho fatto colazione, c'è anche Pierpaolo a casa. Sono andata da Risparmio Casa perché dovevamo fare un bello spesone di scorta, è quasi un mesetto che non andavamo e siamo andati stamattina. Ho lo scontrino in mano, ho preso due bustone e abbiamo speso 31,07€. Sono tutte cose da poco prezzo. C'era un volantino buonissimo, infatti se avete Risparmio a casa vicino, mi raccomando, passateci perché ha sempre prezzi bassi ma ultimamente ha dei volantini un po' più convenienti. Inizierei subito, lo scontrino ve l'ho fatto vedere, inizierei con le spugnette della Vileda. Da quando sto utilizzando le spugnette della Vileda, marca Vileda, non ne posso fare a meno. Sono le migliori. Quando le trovo in offerta, prendo sempre quelle. Ho preso il pacchettino da 3, sono 2 più 1, gratis, e le ho pagate solamente 99 centesimi. Io prendo sempre la misura, quella più piccolina, e non prendo quella con la presa della mano perché non mi rimane comoda. Queste sono misura più piccolina e sono più comode. Vado avanti con... ce li ho ancora a casa, però di scorta non ne ho più, ho solo quelli che sto utilizzando già aperti adesso. Ho preso i pacchettini di cattura colore, io prendo questi a Risparmio a casa della marca Brown. Sono 10 pezzi, ma costavano veramente una cavolata, 88 centesimi. Ho preso due pacchi. Questi sono per i capi colorati, tutti i colori, quindi bellissimo. Due pacchi 88 centesimi. Altra cosa che mi serviva, il dentifricio, perché ce ne ho solo uno, tra l'altro già aperto. Ho preso la confezione Maxi Convenienza. Io di solito prendo... quando prendo la Z, la mia marca preferita, prendo sempre Carie Gel. Menta fresca, multiprotezione. Questo è il pacco Maxi Convenienza e l'ho pagato solamente 69 centesimi. Due pacchi, non ho fatto altro che prenderne due. Quasi terminato ed era in offerta 1,28 euro, ho preso Cif Crema. Sapete bene che io questo lo uso sui fornelli, sull'acciaio, ed è il mio preferito, è il mio prodotto che acquisto sempre. Ogni volta che mi finisce non cambio, ma prendo questo. Prendo sempre quello a limone, perché la profumazione è quella che mi piace di più. Mi piace Cif, perché è 100% riciclabile, plastica, quindi buonissimo. E poi ragazze, sono 500 ml. A 1,29 euro non ho fatto altro che prenderlo. Ne ho preso solo uno, perché ho già metà flacone dell'altro. Andando avanti, ho preso il detersivo per i piatti, questo di marca Risparmio Casa. Di solito prendo o lo svelto, marca Svelto, o prendo la confezione di Risparmio Casa, quella grande, così da riempire i flaconi, ma per il piccolo prezzo che avevano, 79 centesimi. Ho detto, ma sì, sai che c'è, ne prendo due. E ho preso, allora, profumazione aceto, azione antiodore, e ho preso zenzero e limone, sono i due preferiti che io prendo sempre. Non so a voi, ma a noi i cotonfioc durano un'eternità, durano almeno una stagione. Ho preso una confezione da 200 cotonfioc in bastoncini cotonati biodegradabili in puro cotone naturale. Ho preso questa confezione qui, io questi li travaso nel mio dispenser in plastica dura che ho a casa, in bagno, ma molto comodo perché questa scatolina ha l'apertura superiore e quindi per chi non avesse il dispenser è molto comodo da tenere anche così, è carina. A soli 99 centesimi ho preso una confezione. Poi passiamo a detergenti intimi. Questa volta ho trovato dei prodotti buonissimi. Ho preso sia una confezione di Neutrobed, solo 200 ml, l'ho pagato solo 1,29 euro se non erro, e ha un pH 3,5. Io l'ho già usato in passato, è ottimo e sono molto contenta di averlo trovato. Poi sempre di detergente intimo con pH neutro, questa volta ho preso della Dermogella. Sappiamo benissimo tutte che è un prodotto valido, lo vendono addirittura anche in farmacia. L'ho trovato a 1,49 euro, era in offerta. Ho preso il Lenitivo in caso di irritazione e secchezza ed è questo. è anche lui in 200 ml ed era in offerta anche lui. Non ho fatto altro che prenderli tutte e due. Passando avanti, ho preso i miei soliti quadrotti per struccarmi il viso. Sono 50 in poro cotone della marca Risparmio Casa. Io prendo sempre questi e mi trovo bene da mesi. 99 centesimi. Andando avanti, con sapone per le mani, a 88 centesimi, io prendo sempre quello della Venus perché io lo ricarico nel mio dispenser e mi rimane comodo. Ha un prezzo bassissimo e ci troviamo bene. Ho preso due confezioni, sempre l'antibatterico, a 88 centesimi. Eccoli qua. Come vi ho già accennato in altri video, dovremmo fare un cambio armadio in camera da letto e quindi non ho fatto altro che prendere il Cif Muffa. Era scontato a 1,99 euro per muri e fughe. Ne ho già un altro a metà flacone, però ne ho preso un altro approfittando sia dell'offerta e poi ho pensato che se spostando l'armadio di là in camera da letto dovesse uscire qualche pezzettino di muffa o qualche macchia di muffa, ho già la scorpa in offerta. 500 ml ed è una marca ottima. Passando ai capelli, ho trovato delle ottime offerte. Ho preso due shampoo della Palmolive, un'ottima marca, di solito questi vengono 3 euro l'uno quasi. Li ho trovati a solamente 99 centesimi. Ho preso morbidezza e lucentezza per me, con olio d'oliva. Sono un 350 ml. E per Pierpaolo, sempre della Palmolive, ho preso l'antiforfora. Questo è per uso frequente. Lui fa docce quasi tutti i giorni con il lavoro e quindi ho preso questo per lui, sempre un 350 ml. Le profumazioni sono buonissime. E non possono mancare i miei cattura a polvere. Le mie swiffer sono perfette. Ho preso la profumazione muschio bianco. Sono 22 pezzi. E ho preso la profumazione lavanda. Lavanda e camomilla. In ogni spesa di risparmio a casa ci sono. Poi, ho trovato in offerta a 1,39 euro i bicchieri di plastica. Devo dire la verità, non siamo solo chi usarli. Però, devo ammettere che quando c'è gente, è comodo. Sono comodi. Sono 100 pezzi a 1,39 euro. Ho preso due confezioni di Liness. Io prendo sempre questi. Sono 12 al pacco. E costano solamente 99 centesimi. Ormai, è da anni che sto usando questa marca e penso sia la migliore. Poi, ho preso tre confezioni di umidificatore profumato per armadi. Questa volta, la profumazione oceano, io di solito prendo o lavanda o rosa. Questa volta mi andava di cambiare. E, dato che sta arrivando il caldo, a parte che oggi è caldissimo. Sta arrivando il caldo e quindi ho detto, ma sì, prendiamo una profumazione un po' più fresca. 99 centesimi. E, ragazze, io li prendo sempre a risparmio a casa perché sono convenienti e fanno il proprio lavoro. Anche al mercato costano dai 2 euro in su. Quindi, se li trovate e avete risparmio a casa vicino a voi, ve li consiglio. Andiamo avanti con le ultime cosine di carta. Ho preso la mia cartigenica preferita. È profumata, è morbida e ha tre veli per pelli delicate. Ha 1,69 euro, 6 rotoli. Ho preso questa e i pacchi sono abbastanza grandi. Ho preso i due maxi rotoli, asciuga tutto, sempre marca risparmio a casa, a 99 centesimi. Ci sono di varie misure. Io prendo sempre quella un po' più piccolina perché, avendo il portarotolo sotto la cucina, mi ci sta solo questa dimensione. Però, se non sbaglio, in offerta o 1,49 euro o 1,69 euro, c'era la misura più grande. Se vi potesse interessare, ve lo dico. Ultimo prodotto, nella seconda busta, abbiamo il maxi scorta di tovaglioli. Io prendo sempre questi, ci troviamo bene, 99 centesimi. Questi qua. La mia spesa è terminata. Io, ragazzi, come ogni volta, vi ringrazio. Ringrazio tutte le persone che vi guardano e mi supportano ogni volta in ogni video. Vi invito ad iscrivervi al canale, di lasciare un like e un commento e di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video. Vi mando un grosso bacio al prossimo video. A presto!